E' stato presentato ufficialmente questa mattina il nuovo sito Mantova Fortezza. Sarà online da giugno e racconterà attraverso schede, documenti ed immagini la storia delle fortificazioni mantovane. Si chiama www.mantovafortezza.it, una risorsa in rete per la storia militare di Mantova. E' il nuovo sito intern dedicato alle fortificazioni mantovane presentato questa mattina al Palazzo di San Sebastiano. Vi si potranno trovare informazioni su tutte le fortificazioni mantovane, anche su quelle meno conosciute. Credo che il sito sarà una scoperta molto felice, credo che il sito fosse un qualche cosa che mancava, perché ci consente di leggere quello che non c'è, perché al di là del fronte di Pietola, al di là del fronte di Bongo Fonte, altro non c'è se non delle tracce. Bene, questo sito ci consentirà di leggere l'interezza delle fortificazioni mantovane. Promosso dalla Società per il Palazzo Ducale, in collaborazione con il Comune di Mantova, realizzato grazie al contributo della Fondazione Cariplo, il nuovo sito sarà online a partire da giugno e promette grandi sorprese. Gli stessi promotori, nel vedere le anteprime delle schede, sono commossi per il risultato. Perché mai avrei pensato che il risultato finale potesse essere quello. Se poi, quando è stato il momento, abbiamo visto uniti i documenti principali che vengono dall'Austria piuttosto che dalla Francia e abbiamo visto i disegni di Guglielmo sulla base di queste ricerche, credo che il sito sarà una grande scoperta. Lo scopo del sito è quello di raccogliere tutte le informazioni, carte, documenti e immagini delle fortificazioni virgiliane, non solo per gli esperti del settore, per i quali potrà essere una risorsa, ma anche per la gente comune, gli abitanti del territorio che spesso non conoscono quale ricchezza si nasconde dietro la loro storia.